Musica Mercoledì 17 aprile, ben ritrovati con l'edicola, lo spazio che qui su TRMH24 Dedichiamo alla lettura di alcuni quotidiani che oggi troverete proprio nell'edicole Come di consueto partiremo subito con una lettura delle prime pagine nazionali del Corriere della Sera La Repubblica, Cazzetta del Mezzogiorno E poi sfoglieremo insieme invece i quotidiani locali Eccoli pronti già dietro di me per essere sfogliati e letti insieme i quotidiani di oggi Partiamo proprio dal nazionale del prima pagina Corriere della Sera In apertura gli esteri spinta per le sanzioni all'Iran Netanyahu prepara la controdifesa ma evitando l'escalation Tajani dice sì a soldati italiani in un futuro stato palestinese Poi dagli USA all'Unione Europea studiamo le misure Teheran se attaccati vedrete un'arma mai usata Poi due arresti la scelta dell'Ateneo sulla ricerca Bernini vicina alla rettrice La Sapienza No al boicottaggio scontri tra studenti e polizia Poi l'ex premier Mario Draghi sull'Unione Nelle regole Draghi dice un piano per l'Europa che cambi radicali E invece sempre sul taglio laterale Il caso sono vecchio ma lucido Canfora processo per le frasi su Meloni Dalla prima del Corriere della Sera ci spostiamo adesso Sulla prima pagina di La Repubblica Bruxelles, l'Europa, secondo Draghi Leggiamo insieme nel sommario L'ex premier parla Completare l'Unione dei mercati, dei capitali Per competere con Stati Uniti e Cina Dice va superata l'unanimità Servono difesa comune e investimenti ai tech I liberali intanto dell'Unione Europea per l'intesa calenda Renzi Poi la FMI gela l'Italia Pille e debito saranno peggiori delle estime di governo E dal Medio Oriente scintille al confine libanese Anticipano l'attacco all'Iran Andiamo nei tagli laterali con la politica Picchetto-Fratin boccia il ponte di Salvini E poi la Schlein taglia con conte fino al dopo voto E infine legge sull'aborto tutte le bugie della Meloni E anche La Repubblica in un taglio basso Riporta gli scontri ieri a Roma Scontri alla Sapienza tra la polizia e gli attivisti pro-Palestina Adesso ci spostiamo invece sulla prima pagina della Gazzetta Del mezzogiorno Emiliano prende tempo Ecco titola così oggi la Gazzetta Niente rivoluzione Mano tesa ai 5 stelle Poi ancora nel sommario Leggiamo insieme La forgia e l'eccese Oggi l'incontro che è stato appunto rinviato Pisicchio nega tutto Intanto ieri interrogatorio di garanzia Per l'ex assessore ex direttore arti Faro dalla procura Sulla decisione Di rimuoverlo proprio dall'arti E la fotonotizia invece Che riprende il filologo Luciano Canfora Diffamazione a Meloni Canfora finisce così a giudizio Il suo avvocato E l'attuale candidato Michele Laforgia Poi voliamo a Verona Con il Vinitali Il mercato del no alcol Ma si potrà chiamare vino Ecco la cronaca Ennesimo Incidente Sulla statale 16 Morte due donne La figlia aveva 12 anni Il padre invece Ovvero anche il marito della vittima In grave condizioni Adesso ci spostiamo invece Nelle pagine di La Repubblica Bari Andiamo subito sul paginone In primo piano La politica La linea di Emiliano in Regione Avanti con il dialogo Dice tra PD e Movimento 5 Stelle Il governatore manda segnali Di distensione a Conte Dopo il ritiro De pentastellati Dalla Giunta E l'azzeramento Invocato dalla Segreteria Nazionale Dem Alla quale promette Un netto cambio di fase Attraverso l'indicazione Di altissime figure L'appello Cari la forgia E le cese Collaborate Anche se divisi E poi il caso Il tormento di sinistra italiana Avanti o divisi O assieme a Bonelli Ora la discussione Sarà lunga E andiamo con il processo La Premier vuole 20.000 euro Canfora La testa funziona Dice il filologo a giudizio Meloni chiede un risarcimento Sarà chiamata in aula Ad ottobre prossimo E l'indagine invece Sulle dimissioni di Pisicchio La procura Prende così gli atti Ieri intanto L'ex assessore Ascoltato E dalla Repubblica Ci spostiamo adesso Sulla pagina sportiva Il flop del Bari Polito regista Per tenersi la B Al terzo cambio in panchina Cala il consenso Della tifoseria Callon Rientra intanto In gruppo E dalle pagine Di La Repubblica Bari Ci spostiamo adesso Al Corriere del Mezzogiorno Anche in qui In primo piano Il vuoto a Bari E poi Il caos In regione Partiamo dalle Amministrative baresi Le cese la forge L'ultima spiaggia Il centro-sinistra Ora spera Nell'intese Attesa infatti Nelle prossime ore L'incontro Tra i due Invece Spostandoci su Il caos In regione Emiliano dice La mia giunta Fuori dalle Inchieste E dice sì Al patto Sulla legalità Chiesto Dal Movimento 5 Stelle E poi A Iapigia Ferito un ventenne Due minori Fra gli arrestati Uno aveva con sé Ancora la pistola L'aguato Nel feudo di Parisi Torna quindi La tensione Dopo l'omicidio Capriati E ancora con La cronaca Il bitumificio Di Turi L'asla Il comune Anomalie rilevate Già a dicembre Parte così la lettera Industria Insalubre Il decreto Non c'è E infine Sempre sulla cronaca Lo scontro Sulla statale 16 A Mottola Auto Finisce contro Un tir Morti Madre E figlio Di 12 anni Altro schianto Sulla Baritaranto Due persone Finiscono in ospedale Adesso invece Ci spostiamo Sulla prima pagina Dell'edicola Del Sud Anche in qui In primo piano Emiliano Tende la mano Al PD E il Movimento 5 Stelle Rimpasto Vicino Pronti Due tecnici Intanto Sì Alle richieste Di Conte Più potere Al NIRS E delega Alla legalità Vertice di maggioranza Ieri Quindi dopo Gli scandali Giudiziari All'orizzonte 4 avvicendamenti Quindi Saranno Nuovi 4 assessori Su 10 E poi La foto La foto Luciano Canfora Meloni Neonazista Canfora Giudizio E ora La Premier Vuole 20.000 euro Fotonotizia Dedicata All'incidente Sulla Stata Lecce 100 auto Contro Tir Muore Madre Figlio E poi Velocemente Nei tagli Laterali Bari Alle urne Oggi Il summit Tra la Forgia E leccese Poi ieri L'interrogatorio Pisicchio Respinge Tutte le accuse Andiamo al Bonomo Oltre un anno Di attesa Per una visita San Severo Nel Foggiano Smantellata Una rete di spaccio In varie città E poi in Basilicata Gli industriali Esaminano I candidati Marrese E Vito Bardi Ieri Presenti E invece Con la cronaca L'escalation Di violenza Nel capoluogo Iapigia Sparatoi All'alba Dopo un tentato Omicidio Arrestati Cinque Giovanissimi E poi A San Marzano Di San Giuseppe Nel Tarantino Ieri Funerali Di Mario Pisani Mario Pisani Come Gesù In centinaia Al funerale Del tecnico Morto A Suviana E dalla prima pagina Dell'edicola Del sud Ancora Leggiamo L'edicola Del sud Ma che racconta Il sud Appunto Della nostra regione Quindi Brindisi Lecce Andiamo proprio Sui tagli laterali Andiamo ad Otranto Scagionati Ruggeri E Cariddi Poi a Lecce Sembrano esserci molti spiralli Per una candidatura Unitaria Molte le tensioni Ancora tra PD e Movimento 5 Stelle Scarsa La volontà Di un passo indietro E ancora Un assessore al bilancio Senza specifiche competenze A chi faceva comodo La revoca ad Adamo Solleva qualche riflessione Sulle scelte infelici Operate in questi anni Dal sindaco De Caro E poi La fotonotizia Canfora Di Famo Meloni Il filologo Rinviato a giudizio Ad ottobre Michele Laforgia Il suo avvocato Dice La premier Sarà chiamata A deporre Processo inopportuno Se c'è un potere Dello Stato Taglio laterale Velocemente Bari calcio Federico Giampaolo Per centrare La salvezza Cambia nuovamente L'allenatore Nel Bari calcio E chiudiamo La nostra edicola Come sempre Leggendo la prima pagina Del Sole 24 ore Bonus edilizi Frodi a tutto campo Arriva così Lo stop Agli scontri Automatici Parliamo di agevolazione Gli illeciti A quota 15 miliardi Alto tasso Di irregolarità Anche nelle cessazioni Dell'ACE Frenata intanto Sui crediti D'imposta E spazio A contributi Diretti Cantieri Intanto controlli Che arriveranno Dai comuni E poi con le borse europee In caduta Tassi Gelata Fed Ma la BCE Prepara Un taglio Già a giugno E poi L'ok Dalle azionisti Stellantis Tavares Nel 2023 Retribuzioni Che arriveranno A 23,5 milioni E infine Dall'Europa Da Bruxelles Draghi Sferza L'Europa Dice Serve un cambiamento Radicale E queste sono solo Alcune notizie Che abbiamo letto insieme Nel corso Della nostra edicola Come spesso vi ricordo Alcune di queste notizie Saranno approfondite Proprio Negli spazi Di approfondimento O nelle edizioni Prossime Dei nostri telegiornali Pertanto Nell'augurarvi ancora Un buon proseguimento Di giornata Vi invito a rimanere Sul nostro canale Nel corso Di mannere Di mannere Di mannere Di mannere